ciao da medeo lo sappiamo chi va abitualmente in palestra tiene particolarmente la sua salute ha spesso delle difficoltà a monitorare i suoi risultati molti si affidano a smartwatch e orologi sportivi ma la maggior parte a volte dei risultati poco precisi dato che si focalizzano su altre funzioni garmin azienda ormai famoso del mercato della tecnologia ideata per gli sportivi ha pensato a tutti coloro che non sono medici ma vogliono tenere sotto controllo il loro stato di salute e le prestazioni durante gli allenamenti la fascia cardio hrm dual che vedete qui con me è un prodotto creato appositamente per registrare nel modo più preciso e comodo il battito cardiaco infatti hrm sta per heart rate monitor in questo caso si tratta di un modulo di 62 mm x 34 x 11 collegato una fascia regolabile che va dai 63 cm ai 132 cm di lunghezza è molto leggera sono circa 50 grammi anche impermeabile ma non solo per il sudore ma anche per le attività sotto la pioggia però vi sconsiglio di utilizzarla mentre nuotate dato che resiste solo a un'atmosfera di pressione poco più di un metro di profondità e non mi sembra proprio costruita per resistere a delle attività in subacquea una cosa invece molto comoda è la batteria già di per sé questa batteria una durata praticamente infinita garmin garantisce un'autonomia di tre anni e mezzo con un utilizzo medio di un'ora al giorno inoltre è possibile sostituirla comprando separatamente una batteria di ricambio del sito ufficiale l'ultima chicca sulla resistenza di questa fascia resiste a sbalzi termici abbastanza importanti tra i meno 5 e i 50 gradi riesce ancora a funzionare perfettamente un'ottima notizia per chi fa sport in condizioni estreme comunque diamo l'occhiata la fascia che al tatto è molto comoda il gancio per la chiusura è semplicissimo da aprire e chiudere infatti basta fare questo movimento ci sono delle parti in gomma che vedete qua che vanno posizionate all'altezza del torace a diretto contatto con la pelle ecco queste parti possono essere un po fastidiosa all'inizio soprattutto se la fascia è fredda ma dopo poco tempo non si sentono praticamente più inoltre queste parti di gomma contengono i sensori che arrivano direttamente li vedete qua i sensori al modulo questo piccolo aggiornino che anche rimovibile come vi ho fatto vedere prima per la soluzione della batteria o per la pulizia della fascia il modulo si collega al vostro smartphone attraverso la connessione bluetooth e comunica direttamente con l'app dedicata che potrete trovare sugli store android e apple la portata della connessione bluetooth e di circa tre metri così potrete tenere comodamente il telefono lontano da voi mentre vi allenate ma perché acquistare questa fascia se vi allenate in palestra beh non vi ho parlato della sua caratteristica più importante la compatibilità con diverse attrezzature da palestra applicazioni allenamento e macchinari medici infatti oltre alla connessione bluetooth vi è anche la tecnologia di connessione ant plus questa è utilizzata da molti produttori di attrezzature sportive per la comunicazione tra i vari dispositivi quindi se volete tenere traccia del vostro patito cardiaco quando e come volete non potete farvi scappare la fascia cardio di garmin hrm dual dove la potete acquistare ovviamente sul pm power.com cliccato sul link riportato qui in basso in descrizione mi raccomando supportate il nostro lavoro mettendo mi piace e iscrivendovi al nostro canale youtube se vi va lasciate anche un commento ciao e al prossimo video